La terribile vicenda che si è abbattuta su Benedetto XVI ha portato il Papa a scrivere una lettera che è una specie di testamento di fronte a Dio e di fronte agli uomini dell'operato della sua vita, della sua vita di persona che ha avuto molta responsabilità nella Chiesa. Voglio leggere alcuni brani di questa lettera di Papa Ratzinger. Innanzitutto ringrazia il piccolo numero di amici che con abnegazione per me ha redatto la mia memoria di 82 pagine per lo studio legale di Monaco che da solo non avrei potuto scrivere. Quella memoria di 82 pagine già presentata nel 2010, Ratzinger scrive, l'hanno scritta per me un piccolo gruppo di canonisti che l'hanno fatto con dedizione. Nel lavoro gigantesco di quei giorni è avvenuta una svista riguardo alla mia partecipazione alla riunione dell'ordinariato del 15 gennaio 1980. Questo errore, che purtroppo si è verificato, non è stato intenzionalmente voluto e spero sia scusabile. Continua Ratzinger. Mi ha profondamente colpito che la svista sia stata utilizzata per dubitare della mia veridicità e addirittura per presentarmi come un bugiardo. In tutti i miei incontri, soprattutto durante i tanti viaggi apostolici con le vittime di abuzzi sessuali da parte di sacerdoti, ho guardato negli occhi le conseguenze di una grandissima colpa e ho imparato a capire che noi stessi veniamo trascinati in questa grandissima colpa quando la trascuriamo o quando non la affrontiamo con la necessaria decisione e responsabilità, come purtroppo spesso è accaduto e accade. Sempre più comprendo il ribrezzo e la paura che sperimentò Gesù sul Monte degli Olivi quando vide tutto quanto di terribile avrebbe dovuto superare interiormente. La parte finale scrive così, Benedetto XVI. Ben presto mi troverò di fronte al giudice ultimo della mia vita. In vista dell'ora del giudizio mi diviene così chiara la grazia di essere cristiano. L'essere cristiano mi dona la conoscenza di più, l'amicizia con il giudice della mia vita e mi consente di attraversare con fiducia la porta oscura della morte. Questa lettera il Papa l'ha scritta il 6 febbraio, oggi è l'8 e oggi è comparsa sul Corriere un'intervista al suo segretario Georg Genschwein, in cui il segretario che conosce Benedetto da decenni e gli sta a fianco da moltissimo tempo, ricorda come in questo attacco che la Chiesa tedesca ha fatto contro Papa Ratzinger c'è la volontà della damnazio memoriae per distruggerne la persona e l'operato. Questo penso sia, a parte il dramma di Ratzinger, che però in qualche modo è previsto da Gesù che dice che ogni cristiano sarà perseguitato. Come lui è stato perseguitato, ogni cristiano lo sarà e questo tanti papi dimostrano come siano vere queste parole. Però a parte il peso della fatica di vivere, che è caduta, del fango che è stato buttato su Ratzinger in questa occasione, c'è da considerare il perché è stato fatto. Certo l'odio per Ratzinger, per quello che Ratzinger rappresenta, perché Ratzinger è il massimo difensore della dottrina cattolica che si vuole aggiornare.